di agnostica ragazzi non state scherzando ci stiamo allenando per la gara sai chi vincerà sono il più veloce mcqueen non essere così esibizionista mc truck controlla la mia diagnostica mcqueen vado sulla linea di partenza eccomi arriverò presto mettilo qui pronto sheriff controllerò la rampa che bella pista abbiamo fatto del nostro meglio sono pronto corredori in partenza ma dove è mcqueen non lo so forse si è tirato indietro strano mcqueen dove sei ehi cos'è quel suono apri mcqueen aspetta grazie amico puoi ancora farcela mcqueen eri tu quello che mi hai rinchiuso eh pronti attenti via te la faccio vedere chissà che vince oh mi dispiace io sono il primo forza mcqueen mcqueen è molto arrabbiato fatti in là fatti in là fatti in là fatti in là oh oh aaaaaaah aiuto non so notare aspetta ti salverò ti salverò eh cosa dovrei fare afferra grazie mi dispiace di averti rinchiuso nel camion e mi dispiace di averti spinto così tanto dico di continuare la gara sono d'accordo ma solo secondo le regole assolutamente